Dio mio, smetterà mai di piovere? Già, non parlare del fango. Mi sono ricoperto e comincia ad averne davvero abbastanza. Dovremmo darci una mossa. Non così presto. Se qualcuno dà l'alarme, la nostra missione è fallita. Ma certo, la missione. La missione prima di tutto. Ok, ho capito. E comunque, con tutti questi soldati in giro, io non mi preoccuperei della missione. Mi preoccuperei più della mia pelle. Ora basta parlare. Pensiamo a salire su quel treno. Prima però dobbiamo trovare un modo per penetrare nella stazione. Quali sono gli ordini? Moi. Sì, messi. Sì, messi. Ah ah. Sì, messi. Sì, messi. Sì, messi.